signore e signori buongiorno lunedì oggi è lunedì ragazzi guardate che bellezza la mia viennese scomposta adesso con la crema alla crema pasticcera fatta da me bella morbida bella liquida perché dovevo fare questo questo scomposto adesso facciamo la prova della saggio vuole inizio a settimana a tutte ragazzi adesso vediamo vediamo un po di crema che ho messo un po di vermute che ho messo un po di tutto ragazzi in del nazionale guaglia mucca buona colazione a tutte picciotto buon inizio settimana ciao ciao